Domenica prossima dalle 7 alle 23 sarà effettuato il turno di ballottaggio in 5 comuni siciliani con popolazione superiore e 15.000 abitanti chiamati al voto lo scorso 28 aprile per eleggere sindaco e consiglio comunale. Unico capoluogo al voto è Caltanissetta dove gli elettori saranno chiamati a scegliere fra i candidati sindaco Michele Giarratana del centrodestra con il 37,39% e Roberto Gambino del Movimento 5 Stelle con il 19,92%. A Gela si confronteranno Cristoforo Greco candidato da liste civiche al cui interno vi sono sia il Partito Democratico che Forza Italia al 36,28% e Giuseppe Spata appoggiato da Faratelli d'Italia o DC e Lega al 30,57%. In provincia di Trapani ballottaggio a Castalvetrano fra Cologero Martire appoggiato da liste civiche al 30,30% ed Enzo Alfano del Movimento 5 Stelle al 28,49% e a Mazzara del Vallo fra Salvatore Quinci del centro-sinistra con il 31,51% e Giorgio Randazzo appoggiato da varie liste tra cui la Lega al 24,25%. Infine in provincia di Palermo a Monreale si sfideranno al secondo turno Alberto Arcidiacono appoggiato da liste civiche dal Movimento del Presidente della Regione Nello Musumeci diventerà bellissima al 23,94% e Pietro Capizzi del centro-sinistra con il 21,20%. Lo Scutini avrà inizio nella stessa giornata di domenica subito dopo la chiusura dei seggi.